buongiorno ciao video veloce spero che sia veloce spero che sia veloce non 30 minuti come l'altro sono andata in palestra infatti si vede che sono tutta la sala sono passata a prendere i pacchi di vintage e questo di amazon apriamo subito quello di amazon è sempre a tema deve essere una steel box con il carino questa steel box di red del film di one piece red l'ho pagata tipo 3 euro quindi la volevo su amazon io non sono non ho visto i film di one piece lo so la fidatevi io non riesco a recuperarmi niente per ora non sono una che sta guardando tanto sto leggendo per ora mi riprendo a leggere piano piano i film li ho visti e mi è piaciuto tantissimo quindi ho deciso di prendere il box posso approfittarne perchè lei è figa lei è proprio un bel personaggio quindi c'è il film il blu ray giusto se non mi sbaglio si io non ho blu ray vabbè ci sono delle carte delle cartoline delle delle foto un po' così non le tolgo adesso non mi va di toglierle non è in questo momento visto non rientra più mi sa che devo togliere questo nastro e allora le guardiamo direttamente questo è il gioco sono fatte un po' a caso o sbaglio ci mettiamo anche questo ovviamente sì figo 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 bella mi piacerebbe avere più film così con la steel box mettiamolo così non so se lasciarlo film benissimo poi siamo già a tre minuti vintage non mi ricordo in realtà quanto li ho pagati non tanto perchè però non li avevo presi uno me l'ha annullato cioè solo leveling leveling me l'hanno annullato perchè non lo riuscivo a spedire quindi niente non lo recuperare un'altra volta posso anche evitare di metterle così male cioè ok cioè se non si sono rovinati mi ha detto che erano nelle buste protettive oh si è tolta infatti sembrano siano messi bene sono interessata a come trattano la moda degli anime quindi ho deciso di prendere smile down the runway secondo me dovrebbe essere carino ma non l'altra ma l'ho vista e mi sembrava bella poi questo è stato un po' ci ho visto che ne stavano chi l'ha letto alcuni molti ne hanno parlato bene quindi non tutti ovviamente però sono fino al 15 si e mi sa che siamo lì con l'uscita con l'uscita di di adesso in Italia io sto cercando di spedire di andare spedita ma questo non è tanto pesante come l'altro scusa ma è una scattura di scarpe non capisco ma dov'è il tappo? dov'è? ma che si e non voglio rovinare niente non capisco questa scatola non è più salvabile ma si può con il pericolo di tagliare le cose è stata un po' montata questa scatola ho dovuto distruggere ho fatto un cartoncino se ti va a lasciare una recensione grazie per il tuo ordine che carina la scrittura anche di lei ovviamente a lei e a lui lei penso mi ha fatto il cuoricino e qui c'è amarsi e lasciarsi pagato tipo poco a poco lo dico ve lo dirò perché adesso sto registrando con il telefono quindi sono amarsi e lasciarsi fino ci siano tutti sì a quelli qua fino al 12 che dovrebbe essere serie completa sono curiosa di leggerla l'ho presa solo proprio perché vedevo che costava davvero poco quindi l'ho presa lo stesso tipo 30 euro è una cosa del genere poi l'ultimo mi ricordo cos'è questa è una scatola di scarte però riesco ad aprirla allora in cielo falata dai va bellissimo ho messo anche la scotch dell'incelatonatura va bene preferisco una cosa del genere che sono compatti oddio no provino io l'ho sincastrata la copertata insonnia è la variant questa sbaglio insonnia after school avevo trovato un buon compromesso perché sono otto volumi sì la prima è una variant se non sbaglio sono due ragazzi che si incontrano per dormire il povero in una saletta e sono molto interessata a vedere come sviluppa la storia poi sono delle persone che non riescono a dormire quindi immagino ci siamo varico la storia dietro varico la storia d'amore tra questi due ragazzini si è come figa spero però non è tutta uscita c'era ancora questi sono i primi otto però dovrebbe essere andare avanti in questo momento sì 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 e questi erano i miei acquisti sono arrivata a 10 minuti non ci credo ce l'ho fatta questa la mettiamo in esposizione va bene video velocissimo scusate ma è anche l'aspetto ma chissene ciao ciao